allora vediamo come scaricare i driver grafici amd allora ci richiamo su google cerchiamo amd drivers questa è la prima pagina che dobbiamo selezionare successivamente da questa schermata andiamo a selezionare graphics scegliamo il nostro modello di scheda video in questo caso per un esempio per una persona che conosco serve un driver della 500 quindi selezioniamo radion 500 series in questo caso un rx 500 e bisogna scegliere il modello esatto per la vostra scheda rx 570 se non conoscete il modello della vostra scheda si può eseguire un dx di ag fate partire e tra le tante schermate che compariranno ci sarà il modello della scheda con tutta probabilità clicchiamo su submit a questo punto scegliamo il sistema operativo perché stiamo utilizzando windows 10 64 bit windows 11 64 bit e scegliamo il driver opzionale più recente che è un po come una qualsiasi release dei driver nvidia quindi potrete trovare qualche bug il driver recommended in genere vecchio di 6 7 mesi questo è ottimo per la stabilità ma se vi serve un driver per l'ultimo gioco che è uscito allora dovete scaricare l'opzionale l'opzionale poi una volta completato il download basta farlo partire finito